Salvo Veneziano, frase shock al GF VIP C'era quella piccolina lì, tutta trasparente Federica Panicucci contro Salvo Veneziano, fa orrore Allora a me questo video sinceramente fa orrore Salvo Veneziano a rischio squalifica dal grande fratello VIP 4 L'ho trovato disgustoso Quello è da scadar Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo primissimo video dedicato al grande fratello VIP Salvo Veneziano ha detto delle frasi maschiliste e sessiste contro due concorrenti Sarà vero? Sarà falso? O sarà fifella? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale Se ancora non l'avete fatto trovate qui sotto il tastino iscriviti Di fianco c'è una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico Quasi ogni giorno sul mio canale così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash E a questo punto anche sul grande fratello VIP Ah e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone Capito? Questa quarta edizione del grande fratello VIP non è neanche iniziata da una settimana Ma le cose che sono successe sono già tantissime E tantissime sono anche le polemiche che si sono alzate in queste ultime ore Iniziamo subito in modo soft e parliamo di una cosa carina, bella Finalmente dopo tante cose brutte che vediamo sempre al grande fratello Ce n'è anche una bella, sì ragazzi E' una bella notizia perché un concorrente ha fatto coming out E diciamo che ha parlato liberamente della sua sessualità con un suo compagno di viaggio Stiamo parlando di Aristide Malnati L'egittologo e lo studioso di questa edizione del grande fratello VIP Che parlando proprio con Paolo Ciavarro si è lasciato andare liberamente ad una confessione E Aristide dice I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale Le ho sempre provate con gli uomini Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne La grande partecipazione a livello sentimentale l'ho provata solo con uomini della mia età O più maturi Invece a livello fisico da persone più giovani Io ho vissuto molti amori, non corrisposti, forse infatuazioni In realtà diventano anche ossessioni Io ho cercato di farle finire prima Qualcosa di bello effettivamente in questo GF4 fortunatamente c'è Ma adesso veniamo a noi, al motivo vero All'unico motivo che vi ha spinto ad aprire questo bellissimo video Lo so, stavate aspettando in tantissimi queste parole E infatti vi accontento subito Parliamo di frasi bruttissime, sessiste, maschiliste e violente Che sono state dette da un concorrente di quest'anno Nei riguardi di non una, ben due ragazze In queste ultime ore si è creata una vera e propria bufera Ed ha ovviamente travolto il diretto interessato Colui che ha detto queste frasi terribili E stiamo parlando proprio di lui Dell'ex GFino dell'edizione 1 del GF NIP E cioè Salvo Veneziano In questo momento Salvo e gli altri tre ex GFni E cioè Pasquale, Sergio e Patrick Stanno vivendo nel privé Una sorta di tugurio E passano le ore interminabili di questa esperienza Parlando solo ed esclusivamente di donne E fino a qui in realtà tutto bene Cioè nel senso è normale Sono quattro uomini a cui piacciono le donne Quindi perché non parlare tanto 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 di donne L'unico problema qual è? Che in queste ultime ore Salvo ha proprio esagerato Dalla sua bocca infatti sono uscite delle parole terribili Che riguardano una delle concorrenti Che si trova invece in casa E cioè Elisa De Panicis L'influencer che ha più di un milione di seguaci su Instagram È stata attaccata dalle parole di Salvo Io se fossi stato single C'era quella piccolina lì Tutta trasparente Con sto cu**ettino che Ah l'influencer Ma quella si merita due schiaffi Che gli devi spezzare la colonna vertebrale proprio E poi il midollo cosa gli fai? Staccati la testa E la lasci solo la pelle sull'entro Ma dai Quella è da scandare Ma lì proprio È da maciullarla dai No io sono stato al tratto Che gli ho visto l'intestino grasso attraverso i fusò In poco tempo ovviamente Tutte le testate più importanti Giornalistiche o comunque di gossip Hanno riportato questa notizia Salvo Veneziano Frase shock al GF VIP Elisa De Panicis da scannare Federica Panicucci contro Salvo Veneziano Fa orrore Salvo Veneziano a rischio squalifica dal grande fratello VIP4 Il web si è letteralmente schierato contro Salvo E le sue frasi ritenute terribili Orribili In molti infatti hanno chiesto la squalifica immediata del concorrente E devo dire che forse nella prossima puntata Staremo a vedere se le nostre parole Perché mi ci metto anch'io sinceramente Saranno ascoltate oppure no E come se non bastasse Stando a ciò che scrivono gli utenti più attenti di Twitter Salvo non solo avrebbe parlato di Elisa De Panicis in questo modo Ma si sarebbe diciamo Lasciato andare ad ulteriori frasi di questo tipo Nei confronti di un'altra concorrente Cioè di Paola Di Benedetto Secondo un utente Salvo avrebbe detto Deve rimanere solo la pelle Una situazione molto delicata E sapete che io di solito non entro mai Nel voler commentare con il mio punto di vista Quello che vi racconto Però secondo me di fronte a determinate tematiche E di fronte a determinate frasi bruttissime Che vengono dette Ovviamente neanche io posso rimanere imparziale Infatti vi dico sinceramente quello che ho scritto su Twitter Dopo che ho scoperto che queste frasi Erano state dette proprio da Salvo Su Twitter mi è venuto spontaneo scrivere Ho il vomito per le frasi sessiste dette da Salvo Che schifo E proprio come me anche altre persone del mondo dello spettacolo E che centrano molto con il mondo del grande fratello Hanno voluto dire la loro In prima posizione C'è ovviamente Federica Panicucci Che durante l'ultima puntata di Mattino 5 Ha parlato di questo argomento Delle frasi shock dette da Salvo Veneziano E devo dire che si è completamente schierata proprio contro di lui Allora a me questo video sinceramente fa orrore Terribile ciò che Salvo dice e gli altri che ridono L'ho trovato disgustoso E' inqualificabile e aggiungerei anche imperdonabile Ma non è finita qui perché dopo Federica Panicucci Anche un altro personaggio molto noto al pubblico del grande fratello Ha voluto dire la sua E stiamo parlando di Cristiano Malgioglio Che intanto non solo è un opinionista del grande fratello Nip Ma è stato anche un concorrente di spicco Della seconda edizione del grande fratello Vip E infatti dopo aver detto delle frasi molto carine Riferite a Vandanara e a Pupo Che praticamente a Cristiano Malgioglio Di loro due piace soltanto il colore della poltrona Perché a quanto pare sono invisibili Dopo questo commento sui nuovi opinionisti del grande fratello Vip Cristiano Malgioglio ha voluto anche pubblicare un tweet Molto molto forte Che va proprio contro Salvo e le sue frasi E' disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano Uno dei partecipanti del grande fratello Vip Nei confronti di una concorrente del reality Non ho parole Sono sempre stato vicino alle donne che amo Troppo E lui mi fa semplicemente schifo E dopo queste parole molto forti scritte da Cristiano Malgioglio Arriva anche la risposta ufficiale Il commento ufficiale Da parte del profilo Instagram della diretta interessata E cioè Elisa De Panicis Il suo staff ha ricondiviso il video Delle terribili frasi dette da Salvo Commentandolo così Elisa è una ragazza molto appariscente Ma non per questo bisogna usare questo tipo di linguaggio E se da una parte c'è chi è andato contro Salvo e le sue frasi Dall'altra invece abbiamo persone che lo hanno appoggiato Primi in assoluto sono sicuramente i suoi compagni di viaggio In particolar modo Patrick e Sergio Che ridacchiavano, scherzavano e sghignazzavano Mentre Salvo si lasciava andare a questi commenti bruttissimi Su una ragazza molto giovane Fuori dalla casa più spiata d'Italia Ovviamente qualcuno ha spezzato una lancia a favore di Salvo E prima in assoluto è sicuramente sua moglie Giussi Che ha accolto l'occasione per pubblicare un post molto importante sul suo profilo Ha pubblicato questo selfie scrivendo un lungo messaggio Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini Pur non condividendone forma e contenuto Le esternazioni colorite di mio marito all'interno della casa del grande fratello Mi portano a suggerire, stimolare, una diversa interpretazione In quanto assicuro che l'uomo con cui vivo da vent'anni, padre dei miei figli Non è assolutamente affatto un uomo violento ma tutt'altro L'esatto contrario Se così non fosse non sarei rimasta al suo fianco Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso Di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute È una dinamica di gruppo tipica quella della competizione seduttiva Come gioco in gruppo Tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne Pur essendo consapevole che il grande fratello Un programma con un'elevata esposizione mediatica Ricordo a tutti che è un gioco Questo dovrebbe rimanere A prendere le difese di salvo è stata poi anche una sua ex conoscenza La sua compagna di viaggio nella prima edizione del grande fratello Nonché vincitrice della edizione stessa E stiamo parlando di Cristina Plevani Che ha voluto commentare prima su Twitter questa vicenda Conosco salvo il suo modo di esprimersi Queste frasi non esprimono violenza Come se stesse dicendo che la picchierebbe È il suo modo colorito per dire che gli fa sesso Non lo fa con cattiveria È come se dicesse la spezzo in due Non è un serial killer Non esageriamo Cristina Plevani ha poi voluto anche pubblicare un post molto forte Nel quale ha riportato delle frasi altrettanto forti e simili a quelle di salvo E le ha commentate così Queste frasi sono battute di comici italiani Se fossero rivolte ad una donna Assumerebbero lo stesso significato Pur sapendo in che contesto vengono pronunciate Io non giustifico in tutto e per tutto salvo Spesso dimostra di avere un neurone E di utilizzarlo male L'oratoria non è certo la sua dote E forse è per questo che è stato scelto tra gli ex dei vari GF Anzi, sicuramente So che si esprime come scrive sui social Non è un violento Mai avuto atteggiamenti violenti È ignorante nel senso che ignora parecchie cose Meglio ignorante che uomo violento verso le donne So che i tempi sono cambiati Ma credo che oggi siamo troppo esagerati nel misurare tutte le parole Ricordo quando il pugile venne squalificato Perché se ne uscì con una frase decisamente infelice Ricordo anche il tono Qui è una triste goliardata tra quattro uomini Dove uno spara la cazzata e gli altri tre ridono Forse come avremmo riso tutti al momento Nessuno dei tre ha sollevato il dito E ne ha visto violenza o cattiveria Probabilmente difendo l'indifendibile Ma mi spiace che la sua persona venga associata alla figura di uomo violento Sgridatelo, cazziatelo Fategli fare una figura di M in diretta Ma non fatelo passare per quello che non è Condannatelo per l'ignoranza Insomma, da una parte abbiamo tutte quelle persone che si sono indignate Che chiedono la squalifica di Salvo dopo queste terribili frasi E poi c'è invece chi come la moglie o come Cristina Plevani Che l'ha conosciuto vent'anni fa Diciamo che stanno dalla sua parte Dicendo che lui non ha detto queste frasi in cattiva fede Ma che è tipico del suo linguaggio colorito Staremo a vedere se il grande fratello deciderà di squalificare oppure no Salvo Ma nel frattempo fatemi sapere voi come sempre qui sotto con un commento Cosa ne pensate di tutta questa vicenda Se state dalla parte di Salvo o se invece pensate anche voi Che lui debba essere squalificato Il video può finire qui e spero tanto che vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E trovate qui sotto tutti i miei social dove potete seguirmi Io e Mark vi salutiamo E noi ci vediamo in un prossimo video Vero Mark? Vai, saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi ci abbiamo provato Ciao Ciao